Tieniti stretto, si fate! Passate le feste fantastiche e ricordati... Non mangiare la neve se è gialla! Siete proprio sicuri di voler vedere Sanjay and Craig? Faremo il primo trapianto di chiappe! Tra poco! Motore! Azione! Durante le feste preparati a vivere un'esperienza pazzesca! Sì, dà! I tuoi eroi preferiti si immergeranno in un'intera giornata di avventure in formato maxi! Azioni! Risate da torto in faccia! Divertimento a caso! Sarà pazzesco! La maratona natalizia di Nickelodeon! Film deliranti da consumare in famiglia tutta la giornata! Senza moderazione! Il 25 dicembre per tutto il giorno! Su Nickelodeon! Non mangiare la neve se è gialla! Sì, è vero! 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 Grazie a tutti.